Grazie Allora, se nel mio punto non viene trattato perché i gatti non sono stati prodotti, quindi viene chiedato Portato punto, lo vedete al giorno acquisizione del patrimonio nuovo di un figlio del lato utilizzata la fiabilità e costituente parte della strada denominata via 1 prossimo è un'acquisizione di una vecchia strada che è stata già realizzata agli autobesti che mentre quando io questo store rappresentavo il progetto che abbiamo di diverse unità non una centina che non aveva mai avvisita a parte come adesso stiamo presentando il patrimonio in quest'area a costo zero per il comune Grazie, signor Portazione del punto, che vuole fare con lei una vita, portazione per rivedere la seguita, una vita non l'ultimo punto all'ora del giorno adesione in forma soggettiva del Consorzio per la gestione dei servizi sociali del mandato territoriale numero 3 quindi approvazione anche costitutivo e statuto lavoro con l'assessore non abbiamo detto che c'è il nome prima che finisca il Consiglio con la dobbiamo capire il cintorno che ha trovato il prevedere questo punto adesso questo punto facciamoci un altro sì quindi quindi la dobbiamo capire l'assessore mi ha presso il signor signor il consiglio il consiglio però il punto il problema del giorno riguarda l'approvazione dell'atto sostitutico e dello statuto per quanto riguarda il consorzio che si viene creato nella territoriale nella seconda prima di casa sono pronti per approvare un piano sociale che insomma la legge a cura guardare nelle linee guida generale l'indirizzo a utilizzare la forma del consorzio invece di mantenere quello che era l'organizzazione che abbiamo detto che è stata fatta prima i sei comuni compreso la comunità dell'ambito territoriale si sono determinati con una tecnica libera dell'ambito territoriale rispetto alla volontà di aderire ad un consorzio che è stato apposito esattamente costituito da un punto di vista strutturale non cambierà molto il coordinamento istituzionale tra l'asso strutturato l'assemblea e sarà creata il consiglio di amministrazione e poi il consiglio di amministrazione va a rinnovare i consiglieri delegati alla stessa del rega di la zinna con l'analisi del numero di tre persone abbiamo riveduto opportuno portare avanti questo tipo di progetti così vedo come dettare le linee guida che è la regione in Puglia in modo da sbagliare molto di più il faticoso valore che il fio di piano viene a fare nel posto del piano rimanisco il concetto che siamo attenuti su quello che è le linee guida considerate anche il fatto che la regione per il funzionamento del livello di amministrazione per il funzionamento del fio di piano nella seconda finalità ha scanziato ulteriori fondi per far sì che l'ufficio stessa si sono in amministrazione quindi chiedo al consiglio di votare positivamente il punto del gioco grazie ringrazio l'assessore la propria vostra interagione sì veniamo a prima una battuta che forse ha consigliato un'altra di molti genio per vari punti che si scura io all'ormento siamo favorevoli voteremo a favore rispetto alla proposta essendo questa un'idea che ci va per prima a sorprendi che si sta ragionando rispetto all'ormento della società regionale che è in mente di definire questi strumenti utili alle risposte di quelli sui territori quindi per come ci guardano siamo favorevoli e potremmo controllare con l'altro di liberazione e come abbiamo già detto e fatto in altre occasioni noi abbiamo l'isposizione dell'assessore in una maggioranza tutta anche se questa questione in queste materie possiamo anche rapportare i nostri contributi grazie 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 consigliere la routine mette la votazione del punto di vota favorevole unanimità mette la votazione per impedire disegnitività unanimità 5 minuti di sospensione quindi la maggioranza esaminisce per passare il sindaco mette la votazione del circuito di sospensione di vota favorevole unanimità grazie 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 grazie